Lavoro con carenza di personale, turni massacranti, riposi saltati e doppie notti. Dopo le tante difficoltà affrontate dagli operatori sanitari anche durante l'emergenza Covid, si sono aggiunti dubbi e preoccupazioni sul destino dei loro contratti in scadenza al 31-12. A rischio 400 dipendenti nelle Marche e quasi 200 nella provincia di Pesero Rubino tra Marche Nord e Area Vasta 1. Nei giorni scorsi Massimo Ragni della Funzione Pubblica CGL aveva annunciato forme di mobilitazione se non fossero arrivate risposte adeguate e soluzioni da parte della Regione con la quale i sindacati avranno un confronto il prossimo 8 novembre. Alcune rassicurazioni però sono già arrivate dal Vice Presidente e Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che abbiamo incontrato a Palazzo Raffaello. I contratti sono stati appunto rinnovati fino al 31 dicembre perché questo è il personale assunto durante gli anni del Covid e tuttavia per poterli trattenere in servizio occorre che sia rispettato un tetto di spesa che è un tetto di finanza pubblica e se non viene rispettato il tetto di spesa si ledono le norme di diritto internazionale addirittura i trattati dell'Unione Europea e quindi questo non è possibile. Però finora siamo riusciti a trattenere tutto in servizio quindi non credo che ci possano essere problemi di questa natura. Naturalmente questo per quanto riguarda la Regione Marche proporrà al Governo anche se mantenere in servizio questo personale significa superare il tetto della spesa pubblica e come ho già detto questo limite la Regione è disponibile a remunerare i trattamenti di questo personale con fondi regionali quindi proporremo al Governo di autorizzarci nell'ipotesi in cui il costo per questa retribuzione dovesse superare quella soglia di remunerarle appunto con i fondi della Regione però non credo che ci sarà la rivoluzione insomma su questo tema tanto più per il fatto che queste persone sono molto preparate hanno acquisito un'allevatissima professionalità e servono a garantire il recupero delle prestazioni che durante il Covid sono state compresse. Nessuno ha proseguito Saltamartini Dimentica che ci sono liste d'attesa che vanno sfoltite l'assessore poi è intervenuto sui due tipi di stabilizzazioni Quella legge di Maria il bando si fa ogni sei mesi e per quelle stabilizzazioni Covid si fanno secondo delle procedure ben stabilite quindi il tema non è la volontà della Regione di trattenere questo anzi noi dobbiamo assumere molti più infermieri all'inizio del mio mandato dissi che i 3.000 infermieri che sono in una graduatoria della Regione Marchio dovrebbero essere assunti tutti il limite è appunto questo della spesa pubblica che riguarda non solo il sistema sanitario ma anche la scuola però ritengo che la sanità in questo momento sia la priorità del nostro Paese e mi auguro che il nuovo Governo ci autorizza non solo a trattenere questo personale ma ad aumentare, a rinfoltire i nostri reparti appunto per garantire quella sanità di eccellenza e di qualità che tutti gli italiani meritano. Molte figure sanitarie sono preoccupate in vista della riforma di un eventuale spostamento tra le varie strutture e questo potrebbe essere possibile? La rivoluzione della riforma consiste essenzialmente nella riorganizzazione con gradualità non con spostamenti di masso o di professionalità con l'adeguamento delle strutture alla domanda in particolare nell'area vasta 1, la provincia di Pesaro in cui c'erano due aziende, noi dobbiamo garantire che i pesaresi i cittadini della provincia di Pesaro e Urbino possano curarsi nella loro provincia e non andare a curarsi invece come avviene purtroppo oggi nella regione Emilia Romagna abbiamo tutte le condizioni per garantire la qualità delle prestazioni la professionalità e soprattutto la prossimità è un'attività è un'attività